Eccoci ragazzi con un nuovo episodio di Tales of Arise. Allora, dobbiamo andare a incontrare, se non mi sbaglio, il Lord. Quindi noi, Isara, speriamo che si unisce a noi, ma sicuramente si unisce a noi, ma proverò di sicuro. È impegnato. Che devo fare ora nel frattempo? Ah no. Ma ha detto che non ero impegnato, scusa. No. 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 Non vuole combattere. No. 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 Sion. Che cavolo hai fatto? C'è irondernivo. No. 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 l'istante non solo ti ho salvato il culo non capisci spiegatecelo ecco l'altra è uscita una nuova abilità perché si è preoccupata che ci dà? ah buono, ci incrementa la PA ah 2000, che è successo? sa molto che non lo faceva aspetta, questo che ti dà? attacco più 30 e vabbè finché faccio tutti quanti corruzione tonare col forma da fuoco un attacco terrestre si muove mentre lancia un'arte, non è mica male ah, oltre il limite lo devo fare un po' tutti sto oltre il limite che tanto non lo fa nessuno allora, io devo finire qualcosa che c'è in giro allora, quando ce ne ho? eh perché questo è... eh no, me ne devo mettere in pausa queste e mi faccio questo qua questo per forza ma pure questo è oltre il limite potere fare tutte e due oltre il limite potere fare tutte e due oltre il limite ma avrebbe senso no, non so che fare che faccio agevolazione e questa estensione e questa estensione allora, facciamo prima questo e poi questo ma non ho visto gli altri pure di Allen c'ho un attacco nuovo ho paura che gli appellini e di che cosa dovrebbero discutere? vogliono la tua testa per il loro esforzare questa parola questa parola che ci stiamo è la parola della parola della parola 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 cuore parola appunto parola 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 Ah, se lo ricorda? Suonava? Vi suonava pure lì? Oh, è scendo sta? No. Non capisco niente questa scena. Si suonano e poi si minano? Non capisco niente. No, io non volevo. No, questo è un lord che non vuole essere un lord. Quindi lui è stato costretto. No, sta dicendo che se vince è bene, se no ame. Perché non è quello che fai pure te. Infatti. Ok. Quindi vi ho fatto vedere che sono superiore a voi. Non mi rompete. Ma andrà così bene questo ragno, come fa a far credere. Quindi se dobbiamo scoprire qualcosa la dobbiamo fare durante la notte? No. Grazie per la visione 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 Questo dovrebbe essere da terra Ah vedi Miglior attacco a un volito scudo E beh c'era di là A chi adora gli scudi Quindi Partendo dal presupposto Che loro diventeranno nostri alleati Entrambi tutte e due E' il lord che è la guardia Vuol dire che succede qualcosa a loro insaputa Senza che loro lo sappiano Molto probabilmente è quella porta dove non ci fanno andare Andiamo alla sala del tesoro Non penso che sia aperta E' la sala del tesoro E' la sala del tesoro Ancora questa è aperta Andiamo alla sala di riunione Mi sembra che l'abbiamo fatta tutte quante Io penso che il boss Il più forte sarà quello d'acqua Perché se andiamo Per Per differenza Gli elementi Secondo Questo gioco acqua Batte ferro Acqua batte fuoco E viceversa Quindi il nostro avversario sicuramente sarà Uno d'acqua Penso che dovremmo trovare qualcosa qua Limone Gelatino No? Ho trovato un cavolo qua Io devo interrogare Forse qualcuno fuori La vocanda dice di andare Va bene Andiamo alla vocanda Certo che fregare L'energia estrale Senza che se ne accorgano Oh Mi ha detto quella che ha sparato Così senza Senza neanche le ciao Interessante All we ever got was a tatter blanket A rock hard bed And well past its prime food What are you talking What we got for our slave labor Back in Calaglia Here The Danans get the same basic amenities But the quality is way better than anything we were given Hell Apparently they even get time off to do what they want If I'm being honest Could it be that things were simply harsher in Calaglia? It was the same in Ciclodia too Our buildings and clothing were equipped to handle the cold But that was the only difference Working the floodlights was a form of punishment So we didn't really get rewarded for anything that we did Yeah You could be assigned to fix food Or make daily necessities too But when all was said and done There wasn't much in the way of compensation for any of that So I'd say that's just An elder Menensea really is unusual To say the least Hell I might But the fact remains Danans aren't Yeah No matter how happy they look They're still I don't even know what to think right now This is all way too much to So that was Lord Dohalim, huh? He sure is something Definitely At first he sounded like just some snobby royal But he immediately shut down Shion's Definitely After all The food was pretty damn good too Why are you two complimenting him? You just said it yourself, Alphen He's a Renan Yeah, but he didn't act hostile You're reading him wrong He's acting indifferent He's attempting to keep some distance Between himself and everyone else It's obvious What are we going to do then? Vicente seems to be legit peaceful Are we just gonna do his I'm not entirely sure For now I think it would be best for us to rest at the inn Ugh We finally made it Welcome, fair travelers Lord Dohalim's retainer told It is an honor for you to stay with us Please, make you This is better than I expected The room It's nice What are you doing? What are you doing? Oh, uh Yeah It is pretty nice Yo, Kayla You're a million miles away Nah, it's... Weird I've felt strange ever since we arrived here Can't seem to shake it Maybe it's something about this place You're just tired I'm feeling pretty sluggish myself You two? Seriously, you two? A word to the wise Our work here is far from over Get yourselves together And I'm sorry But I need to call it a day Let's meet back here tomorrow morning And see where things go from there Sound good? Sure But keep an eye out for anything strange, okay? We still don't know how safe this place really is Are you two feeling any better? Yeah A good night's sleep seems to have done the trick I wonder why we felt so out of it You think it might have been because of all the food we ate? You don't think they slipped something into our food, do you? That must be it If they were making an attempt on our lives, we'd know it by now Though, on the other hand They could be warning us off Come to think of it You didn't eat anything at the meal, Rinwell Aren't you starving? Oh, I made myself something later You missed out That was some mighty fancy grub they served yesterday What? And give the enemy a chance to poison me too? Are you crazy? What's the big deal? She ate it too, remember? And we both tried the same stuff Well, maybe they laced it with poison That's only harmful to Danans, hmm? That's enough, Rinwell That's enough, Rinwell That's amazing, how he brought this A cat? Where did it come from? There's something on its collar I think it's trying to lead us somewhere I'm gonna follow him Hey! Where do you think you're going? A cat What, how is a cat? Okay, in realta' e' una spia E' qui' il gatto? Lo so Ah, eccolo Oh, 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 oh... Dove è andato? Corri, corri Ah, c'è lui! Ah, c'è lui! Ma non possiamo dire che sia uno di... Tu pensi che uno di i suoi subordinati sia qualcosa di più? E questo Dohalim è un personaggio abbastanza inutile per una... È difficile per me immaginare che tutti sanno con quello che sta facendo. Magari che uno di loro abbia avuto il coraggio di andare... Allora, andiamo in più. Voglio trovare almeno uno dei miei... Non lo so, ho perso. Ando sta? Ah, eccolo. Eccolo dove non ci faceva passare la guardia. Eccolo dove non ci faceva passare la guardia. Non ci faceva passare la guardia. Eccolo dove non ci faceva passare. Eccolo, che fa' che sia più facile per qualcuno a guardare qui... Sì, che fa' che sia più facile per qualcuno a guardare qui... Scusate, Xion. Ma l'acqua è scoperta. Devo chiedere a te. Che sto dicendo? D'accordo che sei bene. Eh, indovina. Dovino, indovino. Un gofetto qua? Non ce lo danno? Però non è che non mi lamenti. Ah, ecco. Alcuni animali hanno raggiunto l'età adulta. Possono essere battuti. Aspetta. Ah, questo è terra. Quindi dovremmo usare. Dov'hai? Beh, me lo sblocchi l'overlimiter? Ho capito. A tutti quanti lo fa train a me. Ho schivato due volte. Eh, ce la facciamo quella di fuoco. Ah, posso fare pure gestisci l'orange. Da distanza. Ciao. Ciao. Buono. Ciao. 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 Grazie a tutti. Non avevo preferito andare a mangiare, a macere il fuoco là. E io non starei tanto da vicino? Allora, vediamo un po'. Quindi dovremmo usare vento. Allora, equipaggiamento, fuoco, uno di vento. Anche se è di meno come attacco, ma è meglio che sia questo. Ah, lì non ce l'ho niente, di vento, è di vento, fuoco, vento. Le arti dovrei cambiarle, mettere qualcosa di vento. Allora. 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 D'ora. Ma come dovrei attaccarlo, sto coso? Oh, è calato? No! Ah, aspetta! Eh, io non volevo cambiare, cosa volevo? Oh! Oh! Oh, è calato? Oh, è calato? Oh! 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 E' un po' di più rostrido. E' un po' di più rostrido. E' un po' di più rostrido. Occh. E' un po' di più rostrido. Rag com' se vuoi, è l'ultimo. Ok. Ma la è lì che si è caricata al limit? Ma la è lì che si è fatta al limit. Grazie! 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 Si riesce a capire quando si para, quando attacca! Ecco, ora andate al limit! A te! Non si ti piglia! Fa il culo! Ma non ci sto togliendo niente! Ma non ci sto togliendo niente! No no! Non mi faccio prendere! Mi dispiace! No no no! Non mi faccio prendere! Mi dispiace! Sì, è finito il cavolo. Sì, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo? Sì, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo? Sì, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo. Sì, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo. Sì, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo. Sì, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo. Sì, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo. Sì, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo. Sì, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo. Sì, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo. Non è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo, è finito il tuo obiettivo. E' finito il tuo obiettivo, come noi. Quindi abbiamo formato le nostre famiglie, e ai aiutati, abbiamo salvato il nostro modo che possiamo. E poi, il Lord Dohalim è venuto. Il abolle l'oppressione che ci ha avuto, e i Danans sono stati di nuovo. Il Menansia era riuscita a suo guardare, e i figli di figli di vecchio, è finito il tuo obiettivo. Se è finito, quindi perché ti ti ha scontato il suo obiettivo? I'm not done talking I'm sure you know the Renans are trying to harvest astral energy from us Danans Yes, Shion here told me that's how they decide their next sovereign That's right There are five types of astral energy Earth, water, fire, wind, and light All of them are contained within every living being And that's the excuse they use to enslave us You ever wondered what happens to living beings and other matter when they lose all their astral energy? They just die, or so I thought If only See for yourselves What the Is that...is that...metal? Not metal, but to be honest, your guess is as good as mine I believe it's...nothing Matter with no physical form Just a reminder of what was once there They call it the hollowing The hollowing? The process itself is invisible to the naked eye But it makes the impacted area reflective Once it consumes my whole body, that's it for me I'm dead I'm dead What? That can't... Miguel When were you going to... A sinister plot is unfolding as we speak One Lord Dohalim is likely none the wiser to It was blind luck I even found out about it I tried to warn the man for all the good it did Take a look at this It's called the fruit of Helgen When Adanan eats this fruit, their body enters a heightened state One that causes them to emit more astral energy than usual Hold on Could this be the reason Alphen and Law were feeling out of sorts last night after we ate with Dohalim? Sounds like you've been introduced to these things before None too surprising either Most of the realm's food supply contains traces of the fruit If that's what we ate, does that mean we'll become hollowed like your hand? You don't need to worry You'd have to consume a large amount of the fruit regularly to exhibit any symptoms But if that's the case, then why aren't I showing any symptoms? Why would you be inflicted and not me? If I had to guess, because the guards' meals are free of it Otherwise they'd risk Lord Dohalim noticing I tried to warn him, but all it got me was locked up They force-fed me the fruit the entire time I was in chains It's a miracle I made it out They eventually left me for dead Thinking I would succumb to my condition But I survived and managed to escape So the assassination plot Just a cover-up? What? Eventually I found others like me And together we founded the Gold Dust Cats Our mission is to uncover the truth and warn Lord Dohalim As you can see though, we haven't gotten very far in that regard But I'm hoping that's about to change Now you're here Which is all thanks to your faithful feline servant It was a shot in the dark But fortunately you recognized her for what she was And Zahra accomplished her mission with flying colors So what's our plan of attack, boss? One of the Lord's routine inspections of the city It's the only time commoners can talk to him face-to-face That's the idea anyway His security is bound to be on high alert But with you lot along It's the best chance we're going to get to approach him All right, we're in But I have to know How do you keep going with all you've been through? How have you not given up hope? Hey, someone has to fight for the future of the Danans here The future? Lord Dohalim may be a wonderful person But in the end, he's still a lord like any other And lords can be replaced Once the current contest is over The next lord of Elda Menensea will take over Then it'll be back to square one for all of us That's why it's imperative Lord Dohalim seize the light Do you really believe Dohalim is going to stick his neck out for a Danan like you? Is it so impossible to imagine? Everything begins with a simple leap of faith Ma quindi che dovremmo fare? Lo dobbiamo rapire? Ah Hmm 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 Grazie. 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 Oh, you mean where Dohalim smacked me? That feels a little off, but... Ah, it's fine. I'll manage. Doesn't look like it's gotten much better. I'll give you some more healing. That should do the trick. Hey, yeah, you're right. That feels much better. Thanks, Xi'an. I've been thinking about what happened, and I was out of line. I know it takes more than a couple of bullets to bring down a lord. Forget about it. It's fine now. We all got out of there safe, and now you've healed me up, too. We're going to take down all the lords. That was the promise we made, right? Yeah, I guess. But there was one other thing I wanted to ask you. Back at the palace, Law said you took that hit because you were worried about me. What was it you were worried about? That's... kinda hard to explain. Just tell me. Well, for one, if we lost you, I wouldn't be able to use the Blazing Sword anymore. Obviously. But more important than that, I guess... I just couldn't let you die. Honestly, I think that's all there is to it. There you go saying stuff like that again. You never learn, do you? But... Anyway, it's necessary so we can fulfill our promise, right? Right. Glad you remember that much. Are you okay? Anyway, I think I'm gonna go to bed. Sleep well. It's nice. I don't want to touch him. But not a little? Forse, yes. What am I doing? Well, she's a malediction, I'm sure. I sent Kisara back to town under the cover of night. You do realize that she was searching for you all this time, right? I wonder why. She never could let things go ever since we were kids. Maybe she was keeping an eye on you all because she thought you might cause trouble. I wouldn't be surprised. Do we need to be worried about her? She could easily report- Even if we could have kept her here, it would have just raised more suspicion. Besides, more leaps of faith, huh? Once we make our move, I'll send Zahra to come fetch you again. Until then, stay close. Guess we're waiting on word from Magal for the time being. Let's go out somewhere then. Twiddling my thumbs isn't my style. I'm going with you if you are. If I let you people go and- I know he said it's necessary, but are we sure Magal's plan is- I mean, just because we came expecting a fight- If Magal is right about Dohalim, we may have no reason to fight. Dohalim may have found a way to build a future where Danans and Renans can live alongside- Yeah, I guess that may be true, but I just can't bring myself to trust a Renan. I really don't understand what's going through Magal's head. And as for him and Kisara- He said they were siblings, right? But things seem kind of awkward between them. Is there a situation really that different from- That's- I mean, I guess not, but- The reality is that we don't know what's true and what- Until we know that for sure. Let's not pass judgment. Yeah, okay. Ma di quello che vuoi dire. So let me ask you something, Renwell. Hoodle and Magal's cat are both animals native to Dana, right? Right. And zoogles definitely aren't. Well, duh. Those things are too hideous to be from here. Not that owls are any better. Hmm? Ow! Ow! I take it back! I love owls! Owls are the best! I swear- Hoodle's pretty cute, I'll admit. But I've also been rather partial to cats, too. Huh? Who? Me? I... I... Uh... Well, I guess... I like them both. Hmm? Nothing. I didn't say anything. Either way, the more I think about it, I've never heard of anyone keeping zoogles as pets. Is it because Renan's only used them for practical purposes? Yeah, that could be the reason. They were originally created to serve as beasts of- Hey, can you guys quit standing around and get them to leave me alone? I'm begging you! Ah! 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 I'm begging you! il nostro corso gratuito Bene ragazzi, vediamo qui la partita. Se vi è piaciuto il video mettete un like e se siete interessati a vedere come va a finire la storia iscrivetevi al canale. Ciao ciao! Grazie.